musica 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 hai intetto ommagli il microfono che si sente sempre peso eh? suca ooooooo ora mi senti bene sii se parli sempre cosi va benissimo ma non posso lasciami parlare sempre cosi cazzi tuoi che fulle i marci chiamate limitate e messaggi limitati giovani è tutto limitato chiamate anche in roaming a l'estero? lo so infatti mia sorella gli ho fatto i video e poi in teoria vede anche chiamata l'estero io volevo fare Iliad però io ho il contratto insieme al numero di mio padre quindi se vado via io lui deve cambiare obbligatoriamente ma scusa ma non penso che sia tanto da pensare di cambiare paghi tanto per avere poco fai fatti qualche domanda no dai scherzo su marco è lo dico minacciato da morte ciao notte che schifo ciò cazzo cazzo ora si a fine serie che mi sa 2 mod 3 4 ha avuto l'email ma che cazzo è mezzo giga in B rispetto a... ci sono 5-6 modi che pesano 100... mega lume vabbè ma mi vuoi beh dipende chi ne do che pesa anche 200 mega esatto il ladro eh qua esè allora precision farming allora come vedere è giorno 13 vabbè tova visto che i mezzi si è quei chisi ah è 3 da notte quando c'è un wagon ma io c***o no mi sembra che è la canzone mexicana guarda ah ha da pensare ad andare in Messico per la cultura guarda il sito di un mexicano eh 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 hai preso compagnelo e poi mettono martedì mercoledì venerdì sapato domenica no no sapato domenica mi hai messo il gioco davanti i filetti e togliermi ma che hai messo poca roba eh vuol monate togliati ahhhh eh 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 il mio bambino domenica è andata in fi***a ah infatti è proprio porco sì oltretutto, domenica ne ho messo più la mia innazante va verso sera verso i... no 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 e sabbia e sabbia o domenica non lo poter andare meglio domenica è ormai in modalità artificiale eh 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 no da me invece mette 30 gradi ah 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 cattio le vera che cosa vado a fare lo immergo dentro l'olio lantella 46 che è abbastanza liquido agri se no se tu vuoi con 300 euro ti ha fatto una pompa immersione ok hanno toccato le bombe e agri dopo non devo che ti ha spiegato l'immersione sai che c'è il lavandaro? ti metti la turbina dentro lì e il lavandaro si riempi la turbina e pesca il lavandaro e fa anche una gettata di 50 metri in parisi mi viene riuscito a sabo e non mi hanno pisa oh se tu sai il problema se tu sai il problema che mi viene riuscito a sabo sono ciappato le bombe per preparare chi a casa ma che zanzara? che gira questo? guarda che abbatizzo questi senti che zanzara è strana dai 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 vengono su con iuri ci vengono su con iuri non so se che sia ragazzi vi devo dare una bella notizia che teoricamente domenica ci sarà wifi gratis a tutti perchè ricordi devo farmi il vaccino ah 5g dopo siamo in 15.000 che gira il vaccino esatto siamo in 20.000 g ora mi sento anche la seconda dose uida ma perchè parla una roba strana tipo vediamo l'antenna ripetitrice vediamo anche i film arabi no dopo giocheremo con zero di ping o i film negli e papodoa ah aspetta la seconda cosa fare con francesca meglio allora ti dovresti venire come dire fare l'ultima comparsa ah devi venire wow eeeh no quello non si o te viene in cerca deeeh o te viene in torta un poca di roba ehm perduti di volta chi cosa chi no hai tu postelina nooo posterone dai ehm ma la racconda 4 soldi eeeh ma la racconda 4 soldi eeeh 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 fermo il meno possibile si dallo gatto ah che prende 5 eeeh 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 per te si per gli altri no va va anche più lenta o tutte giù le balle eeeh per me cade tutto bene fermo 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 aspetta aspetta che intanto in posto racconto ma che è stato assoluto che cazzo è che ma quanto si dite qualche trombone ecco vada che so vabbè ma dentro dopo ma scorda danni ma eeeh 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 ma da quando si puoi guidare sotto acqua? ah in certi casi è possibile eeeh 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 blocca il trattore sono in mezzo al lago eeeh 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 che fai una pia di barra ma ha fatto 0-100 in un nanosecondo ah Marco ti dico che ti porto via l'ultimo ordo perchè io cazzo ma si ha altre cose da fare si dico che ti è bezzio che ti ha fatto tuccia ah ma manda in rovina ah dico bezzio che ti è manda in rovina con la macchina che dico che la ultima volta c'è sta tipo delle impronte di inferiore di un cavallo sul coppino si, io ero a scappare Omar che è il cavallo vabbè vabbè Serena, Zio Castellini e altre mi segno è quando cadono le balle letteralmente oh una si è intassata che ce n'è una un poco strana va 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 si, dai con quei usavo tutto in merda ancora si muovono da sole e ce l'ho detto no 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 così fai peggio nooo ha inglobato il braccio nooo moltea il tuo figlio sia per favore eeeh ass 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 nasare lascia quel panco di balle anti non c'è una balla su un angolo l'ho proprio pezzato su un angolo ...dicare le balle così, meraviglioso! Molotone! Guarda che roba! ...dipo dici che quando andavi... ...in guerra, tani sia... ...dipare l'altro! Guarda che un'altra che è verdritta! ...dipo un'altra che impegna! ...dipo un'altra che impegna! ...dipo un angolo solo appoggiato! ...o un lato! Nooo ... ...diooooo! Chissà finire in syncro, mi metto il tempo per Pinndade! ...dipo, che cazzo è questo... ...ma metti i dritti! ...oh però non ti faccio nulla a scaricare che le't sapien... ...la guerra delle balle... ...ciò è un mini Biogasport che si dà un tasano come... ...un melcei su pieno e merda... ...and è che in trezzo mi ha mandato le balle in Assa, vero? ...le dopo vuole? ...un po' la seis si, beh è una roba normalissima ...dipo un tagli...3,2,1 Uno, il secondo cambio per te Ho sentito un rumore molesto di Merturina faceva... E' venuto un attimo Ha preso delle balle addosso Ah 7009, la Q può arrivare, non sta preoccuparti E con questo abbiamo concluso Grazie dell'attenzione e arrivederci Bella raga!